ciao a tutti amici stamattina il maresciallo ci ha fatto un bello scherzetto guardate un po il devio luci delle posizioni non funziona quindi le posizioni col devio luci non funzionano più per ovviare a questo problema schiacciamo le luci di parcheggio e andiamo avanti così per il momento poi ne scopriremo i motivi da credo che sia sempre colpa di una massa aspetta comunque adesso vediamo cosa può essere successo e poi vedremo di risolvere il problema comunque si capita anche a voi che accende solo adesso qua non succede più ma quella lucide averla allora vedete i problemi sono due non si accende il quadro c'è l'illuminazione quadro e tantomeno la spia però quando io accendo queste va e neanche quando accendo gli abbaglianti abbaglianti si vada insieme poi risolveremo e se vi capita anche a voi così siete anche voi riuscite metterla a posto immediatamente o meno spero ciao